Allora ragazzi finalmente ho portato un nuovo contenuto sul canale, come avete visto il contenuto è migliore nel senso Minecraft senza lag, senza cose, l'audio anche e cosa dovevo dire? Ah, come avete notato è da anni che non portavo video ma vi ho detto, avete capito ormai il mio problema, il prossimo video sicuramente sarà su FIFA 17, un back opening o un draft che non vi spoiler è una sfida che devo fare, quindi credete che il video è buona visione. Salve a tutti ragazzi sono Giammiki14 e bentornati signori dopo secoli dei secoli, amen. Per dirvi che se vedete skin diverse proprio dalla vita è perché sto usando il computer che appunto non è il mio perché volevo fare i video perché adesso vi spiegherò un po' tutto. Adesso ci stiamo avvicinando nel fatto di fare il modem, cioè di farci montare il modem e wifi, cose varie, il cavo di internet e quindi televisione, FIFA 17, la deluxe edition ragazzi, la deluxe edition. Che così faremo un bel pack opening così e ci darà giocatori veramente fenomenali, quindi io, io veramente sono eufoico. E allora io direi di cominciare, non vi lamentate per la skin, direi di cominciare, cerchiamo di superare 5, 5 mila. Non è vero 5, 5, solo 5 vanno bene. Perché ho visto che abbiamo raggiunto i 12, che poi non è un traguardo quello. Però, siamo a 12, direi che 5 video li possiamo fare. Innanzitutto fatemi un attimo abbassare il volume di Minecraft, non per cattiveria, mojan, ma mi state un po', diciamo, ok. Quindi cerchiamo di fare cose del tipo di am. Allora, ovviamente andiamo sulle Skywars ragazzi perché siamo proprio incredibili noi. Allora, cerchiamo di aprire tu, però se noi troviamo un piccone, palle di neve e una chestplate, io, cioè, non le faccio le Skywars. Cioè, fidati proprio. Allora, già vi dico che sono abbastanza scadente nelle Skywars, quindi non vi lamentate, ma io faccio così schifo che guardate, io, non lo so. Già che io non riesco a saltare, questa è una cosa abbastanza paurosa per chi gioca a Minecraft da una cifra. Cerchiamo di arrivare al centro, sempre se non muoiamo prima perché io, comunque, io non ho blocchi. Che bello. No, allora, vediamo, prendiamo i blocchi. Cioè, quando devo perdere per, solo perché non trovo un blocco. Al centro, mo ti butto di sotto proprio, proprio pa pa pa. Ciao bello. Non ci credo mai nella vita che vivo. Vabbè, scusa, non venire da me, sono buono, diciamo. Tanto vero, sì. No, spero, pensavo di cadere con le slab. Che mi sono accorto solo ora che sono slab. Che bello. Vai. Ho fatto. Allora, io mo, se cado. Allora, io, io non lo so, però, sinceramente, se è una cosa possibile, immaginabile, il fatto che io non so fare parkour. Dato che questo è solo il primo tentativo, direi di poter fare un'altra Sky. Cioè, ci sta. Che caspita è sta cosa? Ah, random map. Non me ne importa. Proprio niente di... Allora, tra un po' sicuramente arriveranno notifiche sul mio telefono. Ma non ci fate caso. Perché ho dimenticato di mettere la vibrazione. Non posso farlo adesso. Perché poi muoio e... Uh! Perché ho preso quella di... Eh, non so parlare. Donate un euro per le persone che ancora non sanno l'italiano. Proprio, mi fate un grandissimo favore. Ah, quelli in nato si uccidono. No, vabbè. Volevo un po' aiutare, secondo me. Dimmi che fa il ponte verso i centri e ti ammazzo malamente. Sì, no, che... No, dai. Ma, serio? Cioè, vengo in pace. Ma tu, già che l'armatura... Un po' schifo... Ah, come non mi lamentate per la skin, ma ripeto, non è il mio il computer, quindi. Ah, grazie. Te ne vai. Quindi mi fai fare il ponte, immagino. Sempre se tu adesso vai là e mi butti cose. Ah, ok. Mendole persone che cadono, muoiono, si suicidano. Se non sanno giocare. Quindi uno di quelli sono io, che non so giocare. Io direi che da qua andiamo da dietro e lo kill. No, 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 amico tuo sono. Non ti uccido a te. No, 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 tranquillo. Come l'anguilla. Prima che... Oddio. Senti, ma posso venire? Cioè, vorrei solo venire da te. Non ti voglio uccidere, perché poi se ti uccido sai che sono guai. E quindi... Quindi? Vuoi che vengo? No, perché poi sei com'è qui. Ah, ok, se ne va. Quindi ciao, bello, ci vediamo. E ritorna. Cioè, io non... Boh, vabbè, io faccio il ponte. Poi magari lo killo da dietro in una maniera incredibile. Facciamo proprio Fast and Furious in versione spade, minecraft, cavalli. Clash Royale. Posso venire? Mi fai il favore che... Capì? Sandy, tu, mo... Vabbè che vabbè, però. Vabbè che vabbè, però. Però. Però, 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 ti... Però! Ma c'è, mo spacco tutto. Ma ragia, tenevo la spada di ferro. Vabbè, i bandaloni di... Di maglia. Perché poi non so, i bandaloni di maglia. Bellissimo. No, vabbè, no? Sì, allora, 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 spiegami come caspiterina fai. Allora, cerchiamo di fare qualcosa di interessante a questa... Ah, che schifo. Facciamo l'ultima. E poi, niente, chiudiamo perché faccio abbastanza schifo. Quindi, cose del tipo... Boh. Vabbè, adesso muoio in due secondi. Oh, manco l'ho detto, muoio subito. Allora, ah, eh, eh, mo mi diverto pure io. A morire subito. Quindi, lasciamo sti schifezze. Almeno che mi metto subito l'armatura, perché poi ci sono quelli che manco inizia a talasca e i soggetti vengono a killare, quindi... A morire subito l'armatura, quindi...